c'è bisogno di me non dirmelo strappo muscolare distorsione alla caviglia non ti preoccupare ci pensiamo noi a te dai che tra 10 minuti passa tutto ciao e benvenuto da fisioradi center anche se io preferisco super radio insomma l'eroe dei supereroi ti starei chiedendo perché beh vieni con me te lo spiego subito fisioradi center offre da più di 25 anni affidabilità e professionalità e ti aiuta a ritrovare il tuo benessere quotidiano a farti sentire sempre un eroe ma come ogni supereroe senza macchina dove va per questo fisioradi center dispone di macchinari altamente all'avanguardia assicurandoti così il migliore dei trattamenti e che trattamenti spalla top therapy scienza e salute del ciclista fisioterapia integrata idrochinesi terapia visite mediche specialistiche fisiopalestra forma fisica e benessere parto e riparto medicina e chirurgia estetica la fisioradi center c'è l'imbarazzo della scelta per tutti quanti e per tutti i gusti e ricorda se vuoi prenderti cura di te stesso non scegliere dei generalisti scegli degli specialisti grazie a tutti grazie a tutti